Mister, dopo la sconfitta pesante contro l'Arenato Curi-Angolana ci si aspettava una risposta del Sambuceto. Oggi a livello psicologico possiamo dire che si è vista la reazione, nel primo tempo eravate entrati molto bene, finisce 0-0. Questo è il quinto risultato utile consecutivo per voi, il terzo pareggio di fila. Sì, sono contento per la reazione che i ragazzi hanno avuto. Me lo aspettavo perché so il valore umano che ho a disposizione. Mi è piaciuta la squadra soprattutto nel primo tempo, l'approccio è stato molto aggressivo. Purtroppo finalizziamo poco, però queste sono partite anche complicate contro un avversario organizzato. Quindi mi tengo il punto e faccio un applauso ai ragazzi. Da domani, da martedì subito al lavoro e quindi proseguiamo il nostro cammino di crescita. Sì, possiamo dire che l'unica cosa che forse è mancata oggi è stata la fase di finalizzazione. I passaggi ci sono stati, quando eravate all'interno dell'area mancava un po' la pulizia nell'ultima occasione dei vostri attaccanti. Esatto, sì. Purtroppo se non facciamo gol le partite non si vincono. E poi sono partite pericolose. Bene è così, bene è così perché mi interessava la reazione, mi interessava che i ragazzi fossero quelli di dieci giorni fa. Quindi sono contento. Mister, dopo la vittoria che vi aveva visti portare tre punti a casa contro il San Salvo, oggi finisce 0-0. Partita sempre in bilico. Nel secondo tempo potevate arrivare al gol che avrebbe sbloccato la gara. Sì, sì, ma è una partita difficile su un campo difficile e sapevamo che il San Muceto comunque in casa era imbattuto. È un campo consumato, quindi una palla molto veloce e loro si allenano e magari sono più abituati. Dovevamo fare questa la gara, abbiamo avuto quelle due occasioni, anche loro, partita equilibratissima, lo 0-0 ci sta tutto. Sì, e tra le certezze della sua squadra, rimarco ancora una volta Capitano Reale che anche dopo il fallo subito nella loro tre quarti si è rialzato. Comunque ha avuto un'altra occasione da limitare l'area, sempre presente nel gioco del penne. Assolutamente sì, ma come tutti, è stato l'impegno da parte di tutti, il Capitano ha fatto la sua parte, come sempre. Per noi è un giocatore fondamentale e non sarebbe il Capitano. Grazie a tutti.